è arrivato il momento di ospitare qui a social night ancora una volta una nuova coppia dei social sto parlando di due ospiti veramente speciali loro c'è un titolo qui sopra che ho inventato io senti come fa il cuore fa tik tok grande l'emozione e l'amore puro è qui in studio perché ci sono giada giannotta ben arrivata giada buonasera ben arrivata e il mitico francesco spizzico buonasera a te vostro profilo ricordiamolo the gentleman 667 e giada grial ecco quindi no profilo di coppia ricordiamo ma quelli col profilo di coppia io non li faccio entrare siete d'accordo però io sono sicura che un po sbircino si sbircino a vicenda quello sì stiamo vedendo il profilo di instagram che sta per apparire eccolo qui dove avete un ottimo numero di follower ma chiaramente il vostro core è tik tok giusto quanti follower più di 500.000 che storie raccontate allora noi in realtà raccontiamo sia la nostra storia no ma la storia un po di tutti perché cerchiamo di creare contenuti che facciano rivivere la loro relazione a chi li guardano certo parliamo di gelosia parliamo di non so scherzi facciamo anche scherzi li ho visti a tua madre tremendi tremendi ma anche una vita non c'è due giorni magari magari potessimo fare storie o video dove mostre i nostri viaggi credo che il successo sia proprio perché tutti ci possiamo rivedere in alcune delle nostre io penso penso lo stesso c'è un particolare è un questo un particolare momento per voi dove la vostra storia sta per subire un'evoluzione già subito abbastanza raccontateci le ultime niente dopo un tira e molla incredibile dopo false proposte sui social è arrivata la proposta quella vera quella reale quello ufficiale io credevo fosse uno scherzo è un essimo scherzo visto che al lupo al lupo e invece invece no è arrivata era vero super emozionata infatti ero incredula di di quello che stava succedendo e super emozionata arrivati in una circostanza un po particolare no dove in uno studio televisivo è arrivato in uno studio televisivo dove fa sport italia eravamo lì come ospiti per sfidare un soggetto no di nel mondo dello sport si può fare il nome si può tutto quello per mirco cisco certo eravamo lì per sfidarlo a suon di pronostici da lì poi è si è stravolta la puntata da parare di calcio emozioni allo stato puro poi sono emozionati tutti lo studio no la conduttrice perché non lo sapeva la conduttrice la conduttrice no cisco si era complice cisco era complice tu come avresti reagito se non ti avessero avvisato prima first reaction shock adesso andiamo a vedere una clip dalla loro vita quotidiana e poi voglio sapere tutti i dettagli sul prossimo matrimonio vediamo la clip sono brava non sotto la palpebra fra che dici è arrivato il momento di fare le sopracciglia aspetto vado all'estetista no fra sono inguardabili te li devo fare io non ti faccio no fai piano fai piano fra sei proprio una femminuccia ma porca putta di me ti puoi fidare ah e mi potevo fidare già già non sotto la palpebra già non sotto la palpebra sono brava non sotto la palpebra ah porca di ehi ehi mi cresco il monociglio viva il monociglio esatto si attimi di quotidianità perché sappiamo tutti un po come sono le donne sopracciglia i brufoli i puntini neri dottor come si chiama pimple popper qualche non capisco come mai queste passioni strane però tu ti sarai vendicato insomma tutti gli scherzi che le fai era il minimo che ultimamente mi sono vendicato in maniera abbastanza si può dire è cattiva si può dire vogliamo ricordare uno degli ultimi scherzi quello del bracciale le ho fatto trovare un bracciale femminile ovviamente con addirittura l'iniziale di un nome in alto in alto la lettera di nessuno della sua famiglia all'iniziale di c'è nessuno aia quindi io lì subito ho fantasticato detto ma chi è questa ragazza che ha una prima azione mi ha bloccato su tutti i soci tutto whatsapp instagram tik tok ovunque non ero reperibile nessun modo ma invece era solo la di di domodosso la ricordiamo mica ci sono ragazze che si chiamano con la di no solo domodosso la ma quindi magari sono cose che vi succedono quotidianamente poi voi decidete di riportarle attraverso in alcuni casi si in altri invece sono momenti che io prendo il prendo il cellulare e registro ecco quindi gli scherzi in realtà sono fatti tutti tutorial io prendo infatti non so se si vede nel video no che io prendo il cellulare perché sto iniziando a fare un video uno sketch in realtà non era lo sketch che avevamo preparato era uno scherzo però ovviamente a mia insaputa come racconterete l'evoluzione ancora della vostra coppia fino al fatidico giorno ci saranno dei contenuti social o lì mettere me o ciao metterete il telefono alle vostre spalle allora in realtà abbiamo già iniziato no a spoilerare un po dell'evento abbiamo diciamo coinvolto i nostri follower facendoli vedere la scelta della sala ok infatti ci siamo anche affidati a molti commenti no perché i commenti erano quasi tutti positivi bene anche abbiamo ci sono guardate abbiamo detto potrebbe essere lì a noi piaceva e abbiamo scelto abbiamo la quindi la sala abbiamo già scelta l'hanno quasi confermata i vostri follower vedi il potere dei social hanno riconosciuto la sala attraverso appunto questo video non pagheranno loro e secondo me vorranno anche essere invitati in realtà sì le richieste sono tantissime accontentare tutti mi sembra ci vorrebbe l'arena di verona ci sarà una diretta magari ogni tanto veniamo noi raccontiamo il matrimonio ci saranno tante dirette ecco il giorno e fino ad arrivare a quel giorno ci saranno tanti contenuti ovviamente non potremo spoilerare che ne so l'abito della sposa e no soprattutto a te però potremmo spoilerare magari la chiesa magari per per chi vuole per chi ha piacere potrebbe venire fuori la chiesa per fare gli auguri per vivere il momento insieme a noi no sicuramente li renderemo molto partecipi del del nostro evento tutto giada sicuramente tutto filerà liscio ma quali sono le regole tipo un outfit hai voce in capitolo sul suo suo outfit ho già messo le cose in chiaro le voglio sapere tutte assolutamente è vietato il colore grigio vietate le fantasie sul suo abito cos'è questa discriminazione per il grigio per le fantasie al massimo io andrei su un blu nero una cosa di molto semplice ed elegante se lo vuoi comprare tu l'abito io ti dico anche grazie risparmio ma io andrei a sceglierlo con lui però non si può le tradizioni sono tradizioni allora vediamo questo tanto chiacchierato evento con questa clip non ho capito l'ultimo suono giada in realtà non l'ho capito nemmeno io cioè io non so il perché di quel suono sinceramente me ne sono resa conto soltanto solo di sollivo ma molto perché c'è stato un momento a dicembre no il giorno di natale io gli ho fatto una finta proposta da brividi cioè mi sono messo lì gli ho fatto un discorso alla fine c'è un pacchetto ma ci sono le orecchine cioè lì ci sono rimasta magnissimo poi pensavo fosse vero perché vedevo tutta c'è la mia famiglia che era in lacrime mia suocera che diceva chiamate il padre chiamate il padre ho detto oddio ci sta succedendo e invece erano gli orecchini visto che si avvicina il matrimonio sì direi di fare anche con loro un bellissimo gioco per vedere c'è un test il test di telebari social light da superare avete due cartelline dietro di voi con un pennarello fogli assolutamente da dover riciclare quindi non li sperichiamo con voi ma vogliamo sapere quanto vi conoscete maricla qual è la prima domanda allora il film preferito l'uno dell'altro il suo sì i film sono quelli che durano un po più di tic di solito il problema è che si addormentano sempre è vero è vero le donne o gli uomini più anche tu ti addormenti sì ammetto noi siamo sempre qua in studio quindi abbiamo poco modo vediamo le risposte non so se si scrive così credo anche che c'è non sono nemmeno sicura che in realtà allora dillo a voce vediamo lo leggiamo noi fast and furious azzeccato vediamo a te 50 sfumature tutti non ho messo uno due tre tutti diciamo c'è ieri sera lo stavi guardando sì però non è il mio preferito però mi piace va bene non è il mio preferito va bene va bene va bene c'è il feeling senz'altro ti piace vediamo come va con la canzone del cuore eh questo è facile è vero è il cantante la canzone non lo so ci provi vediamo vediamo vabbè anche io posso mettere il cantante no 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 di mettere la canzone cantante e canzone avete pochi secondi dobbiamo testare tutto quale sarà la tua canzone preferita andrea non lo so ancora ma secondo me qui c'è un'aria da ultimo forse ho sbagliato il titolo però va bene dopo fast and furious tutto stavolta inizio io da tiziano ferro regalo mio più grande giusto entrambe bellissima il mio cantante preferito francesco invece ama blanco isola delle rete aia aia però li piace anche infatti ero indecisa anche sfere basta eh sfere basta sfere basta sfere basta eh non ricorre il nome italiano di sfere basta va bene dai va bene va bene va bene comunque sta andando tutto strabene ma il piatto preferito è quello decisivo questo è facile è facile se dovessi vincere 500 mila euro mi sentirei già lì ok si siamo a risparmio totale perché i fogli non si sprecano bravo bravo ah sullo stesso foglio ma è ah vabbè tu ce l'hai l'altro se ce l'hai abbiamo speso un po' di più per te Giada non ce ne voglio ma abbiamo un foglio allora io sono pronta io penso sia lo stesso siamo a tavola vediamo da Giada pizza eh sì ecco beh avete lo stesso gusto in fatto di almeno nel fattore cibo nel fattore cibo siamo uguali pizza che è vero per semplice qual è il racconto del mondo dei social delle coppie della vita intima che vi piace chi seguite con maggior passione e interesse ah allora ci sono allora la coppia per eccellenza no? la sappiamo tutti i Ferragni e i Ferragni sì non dico che ci ispiriamo a loro però sì a me piacciono tantissimo perché hanno comunque dimostrato di una un certo valore della famiglia tralasciando gli ultimi sei tranquillo scoop gli ultimi gossip quelle ci sono sempre ci sono sempre però in realtà mi hanno sempre fatto emozionare a partire dalla loro dalla proposta che Fedez fece ah chiaro indimenticabile anche io amo adoro i Ferragni perché raccontano comunque la loro vita quotidiana il loro mondo sia lavorativo che con i bambini quindi mi piacciono molto li seguo molto ragazzi noi ringraziamo voi per essere venuti qui a Social Night ma un video in esclusiva per noi ci deve arrivare ok ah beh pensavo avrebbero tentennato invece grazie vi auguriamo tutto il meglio speriamo anche che possiate venire di nuovo qui a trovarci perché abbiamo veramente una scaletta piena di curiosità per voi ci sono tantissimi followers che ci hanno mandato delle domande purtroppo il tempo oggi è tiranno tornerete? assolutamente sì grazie ragazzi grazie a voi Maricla siamo arrivati alla fine fine puntata ma comunque torniamo domani stesso orario canale 17 ciao 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 Grazie a tutti.